A Teramo il Comitato di Volontariato Inquilini ERP torna ad esprimere le proprie preoccupazioni e quelle dei cittadini sulle tempistiche della ricostruzione e dell'erogazione del CAS e contributo di autonoma sistemazione. Il Comitato degli Inquilini, ricordiamo, rappresenta il grosso degli sfollati terramani del sismo 2016, che sono ad oggi ancora circa un migliaio. La maggior parte del numero di sfollati sono nel quartiere di Collaterrato, mentre leggiamo magari qualche volta ogni tanto una tantum, qualche inaugurazione in comuni molto lontani, per carità, tutto il massimo rispetto, ma Collaterrato stiamo ancora sostanzialmente ai blocchi di partenza dopo sette anni. Sulla vicenda la Presidente dell'ATER, Maria Ceci, ha ribadito che a livello di progettazione lente e molto avanti ha annunciato altre imminenti aggiudicazioni di lavori. Il Comitato però attacca anche i suoi sistematici ritardi nell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione. Ricordiamo che a Teramo, in provincia, sono 1842 i nuclei che percepiscono il CAS. E proprio sulla questione del contributo il Comitato ha voluto rispondere a chi li accusa di essere più interessati al CAS che al rientro a casa. Queste fesserie che sono provocatorie e offensive, oggi non facciamo nomi, però ci riserviamo per il prossimo futuro, perché vorrei credere, vorrei dire a queste persone, ma se dopo sette anni siamo ancora a palo sulla ricostruzione e con affitti di 400-500 euro, cioè maggiorati perché le case sono rare, cosa dovrebbero richiedere questi cittadini che non riescono nemmeno più a fare la spesa con il CAS che viene sostanzialmente assegnato con date ballerine. Ad esempio stamattina ci hanno chiamato, ci hanno chiamato, uno sfollato è andato in banca, convinto che c'era il CAS. Praticamente è uscito, adesso dovrà cercarsi i soldi per la spesa. Cioè soltanto, ripeto, chi non vive queste condizioni e la politica purtroppo oggi forse è più interessata ai ceti più abbienti, che è questa la dimostrazione, che è chi è in difficoltà a svoltare il lunario.